Il tempo vola perché siamo già a marzo e in questo video voglio farvi il riepilogo dei miei investimenti per il mese di febbraio 2021. A febbraio sono successe un sacco di cose e ho fatto diversi investimenti di cui vi voglio parlare in questo video, perciò restate fino alla fine per non perdervi alcun aggiornamento. In questo video voglio parlarvi di un avvenimento incredibile per quanto riguarda le azioni, voglio parlarvi delle novità per quanto riguarda il crowd lending, ma soprattutto voglio parlarvi di immobiliare e criptovalute, perché a febbraio ci sono state delle novità enormi per me. Infine, come al solito in questa serie, vi mostro il report dei miei guadagni e la mia composizione del portafoglio. Like al video e iniziamo con il mercato azionario. A fine febbraio, in realtà da metà febbraio in avanti, c'è stato un leggero calo per quanto riguarda gli indici principali, soprattutto americani. Il Nasdaq infatti ha perso il 6%, mentre lo Standard & Poor's 500 ha perso circa il 4%. Vedremo cosa succederà a marzo. In ogni caso, quello che è sicuro è che ad oggi il DPCM è stato prolungato fino a aprile, addirittura dopo Pasqua. Perciò, sì, tristezza. Diciamo che i tempi di quando eravamo al bar, tranquillamente a chiacchierare, sono abbastanza lontani. Che amarezza. Voglio sollevare gli animi parlandovi di un vero e proprio miracolo. Per la prima volta, dopo diversi mesi, anzi in realtà dopo oltre un anno, sono tornato in positivo, in assoluto con le mie azioni Eni. Ripeto, sono tornato in profitto con Eni. Sono tornato in profitto con Eni. Includendo i dividendi ricevuti, le minusvalenze realizzate e le plusvalenze non realizzate, in questo momento con Eni sono in verde, una cosa che non accadeva da inizio 2020. Per me questa è come una sensazione nuova e piacevole, ma chissà quanto durerà. Però questa è stata per me un'esperienza utilissima. Conta tantissimo il prezzo medio di carico. Conta acquistare quando il prezzo è basso. La logica di fondo è che comprare azioni a 14 euro per azione è più rischioso che acquistare azioni a 6 euro per azione. Questo perché è bastato una leggera ripresa di Eni e del mercato in generale per riportarmi in verde, avendo acquistato azioni anche a 6 euro. Invece se non le avessi acquistate sarei ancora in forte rosso. Chiaramente il contesto è cambiato e ha provocato un crollo dei prezzi da 14 a 6, però investendo nel momento in cui la maggior parte delle persone ha avuto sostanzialmente paura di Eni, in questo momento sono arrivati in verde. Poi ovviamente facendo questi discorsi Eni arriverà a 3. In generale comunque gli ultimi tempi hanno portato dei buoni profitti per il mio portafoglio. Sono arrivato a 400 euro circa in profitto, in verde, da un portafoglio di investimento di 14.000 euro. Considerate che, come ho detto anche in altri video, non considero questo portafoglio di investimento un investimento serio al 100%. Sto continuando il piano di accumulo, che in questo momento è sopra del 6%, e ho un capitale investito di circa 3.500 euro. Comunque, dato che sono passati alcuni mesi, a marzo porterò anche un report dettagliato sul piano di accumulo e su come sta andando. A febbraio ho poi ricevuto dei dividendi dal mio portafoglio azionario. Ho ricevuto dal mio ETF dedicato all'immobiliare 8 dollari e 4 cents, mentre ho ricevuto da Realty Income 9 dollari e 57 cents, per un totale di 17 dollari e 61 cents. Nessuna novità per quanto riguarda Realty Income su DeGiro. Non si possono ancora né acquistare né vendere quote di questo rate, per motivi fiscali legati a DeGiro e che non sono stati specificati nel dettaglio, ma sostanzialmente si possono ricevere ancora i dividendi. Addirittura mi è già stato assegnato il dividendo per marzo 2021. Oltre a questo mi è stato assegnato anche il dividendo di 3M, che però verrà liquidato a marzo, perciò ve ne parlerò nel prossimo video di questa serie. Piano piano, poco a poco, i guadagni stanno aumentando. Per quanto riguarda il crowdfunding, ci sono alcune novità importanti su Soeasy. Infatti, questo mese sono riuscito a scaricare per la prima volta dopo alcuni mesi il report, anzi la dichiarazione di Soeasy, per ottenere le detrazioni fiscali del mio investimento. Ho ricevuto anche la maglietta per aver partecipato all'equity crowdfunding e in più è disponibile la visura aggiornata con tutti i nuovi azionisti. Purtroppo però a febbraio ho ricevuto ancora 4€ di passive income, non i 12€ che mi sarei aspettato avendo investito altri 2.000€ nella piattaforma. Probabilmente però dal prossimo mese, dato che tutti i miei investimenti sono stati abbinati, riceverò più passive income, riceverò più interessi. L'unica cosa che devo fare ora per chiudere il percorso riguardante le detrazioni al 50% del mio investimento in Soeasy è attendere che effettivamente queste detrazioni vengano poste in essere e perciò vengano o liquidate sul conto corrente oppure venga scalato l'imponibile IRPEF. Staremo a vedere, dato che non si sa mai potrebbe esserci qualche sorpresa. Altra novità, in questo caso triste ma forse anche felice, Fastinvest. Si chiude qui il mio percorso durato oltre 2 anni, 2 anni e un mese all'interno di questa piattaforma. Dato che sono riuscito finalmente a prelevare gli ultimi fondi, in realtà il bonifico non è stato ancora accreditato sul mio conto corrente, però ho fatto la richiesta di prelievo degli ultimi fondi e non ho intenzione di investire più in questa piattaforma. Anche se le perdite non sono state elevate, anzi mi sarei aspettato molto più ritardo e molte più perdite. Non ne ho avute praticamente. In questi due anni ho ottenuto un ottimo risultato, 102,39€ di interessi, per un rendimento del 10,98% annualizzato. Niente male, ma i miei prelievi disposti ad aprile 2020 sono stati effettuati a novembre 2020. Chi lo sa, magari è un arrivederci, magari è un addio. Su Mintos dal mio punto di vista c'è solo una novità. Ho ricevuto l'attestato di ufficialità del fatto che sono titolare di alcune azioni di questa startup. È ufficiale quindi, sono un azionista Mintos. Infine vi parlo di Criptaglia perché ci sono molte novità. In questo mese infatti è stata disposta una dashboard veramente carina e con delle statistiche appropriate viene mostrato anche il rendimento del nostro investimento sulla piattaforma. E inoltre sono stati finanziati tanti altri progetti. Anche in questo mese ho ricevuto un sacco di interessi, oltre 16€ in realtà, per un investimento complessivo di 2.500€. In più, verso la fine del mese mi sono stati accreditati 2,33€ di bonus, un 10% degli interessi che avevo percepito nel 2020, per compensare parzialmente il fatto che Criptaglia per il 2020 non farà da sostituto d'imposta. Questo è assolutamente un gesto non dovuto e che dal mio punto di vista dimostra l'attenzione forte verso gli investitori della piattaforma. Ho ricevuto 11€ e 26 centesimi di interessi da Bondora, da Criptaglia 16€ e 79 centesimi, da Suisi 3€ e 95 centesimi, da Prestiamoci 5€ e 44 centesimi e da Mintos 3€ e 11 centesimi, per un totale di 42€ e 60 centesimi di interessi per questo mese. Parliamo di cripto e febbraio per me è stato un mese di emozioni folli assieme a tutti coloro che possiedono delle crypto.com coin, le cro. Questo mese infatti è stato annunciato il burning di oltre 70 miliardi di crypto.com coin. Questo ha provocato un'impennata del prezzo dei cro per 24 ore, non di più. Perciò i miei 3.000€ investiti nella piattaforma sono diventati un giorno solamente oltre 11.500€, per poi tornare nelle 24 ore successive a circa 7.000€. Così, in un giorno più 5.000€, il giorno dopo meno 5.000€. Purtroppo non ho potuto sfruttare l'occasione, perché avrei sicuramente venduto, dato che quei cro 50.000 che ho all'interno dell'app crypto.com sono bloccati. Sto facendo lo staking e la carta verde di crypto.com mi è stata rilasciata. Mi arriverà tra qualche giorno. Questo per dirvi che in realtà non è che mi stia mangiando le mani. Non mi interessa, so che per 6 mesi non devo neanche guardare il prezzo dei cro. Il punto è che bisogna fare attenzione quando investiamo in criptovalute, perché non sempre prima del meno 5.000€ ci sarà un più 5.000€. Le oscillazioni sono tali da poterci far perdere tantissimo o guadagnare tanto, per un breve periodo. Per quanto riguarda l'immobiliare, invece a febbraio ho partecipato per la prima volta a un'asta, un'asta telematica, che purtroppo ho perso. Ho fatto un video riguardo nel quale approfondisco tutti gli aspetti che non voglio riportare ugualmente in questo video. Perciò vi rimando a quel video per tutti i dettagli. Sto però già valutando altre situazioni dal punto di vista dell'immobiliare molto interessanti e di cui sicuramente vi parlerò in futuro se dovessero andare in porto. Voglio spendere poi due parole su questo canale, perché ormai è superato i 48.000 iscritti e per me è un risultato incredibile per il quale vi ringrazio tantissimo. Punto ai 50.000 che forse, molto probabilmente, raggiungerò a marzo o aprile e poi da lì farò altre cose. Sicuramente ci sarà un video di ringraziamento per i 50.000 iscritti e penso e credo proprio di aprire una sorta di contest, una cosa piccola, ridotta in realtà, per ringraziare tutti coloro che mi hanno seguito e che mi seguiranno. Veniamo adesso al report dei miei investimenti e il mio portafoglio di investimento. A febbraio ho guadagnato 17,61 dollari, cioè circa 14,59 euro, sotto forma di dividendi, mentre dal crowdlending ho guadagnato 42,60 euro, per un totale di portafoglio income pari a 57,19 euro. Il mio portafoglio in questo momento, esclusa la liquidità, è composto per il 34% d'azioni, 26% crowdlending, 16% criptovalute, considerando il fatto che il valore del portafoglio di Crypto.com è praticamente raddoppiato dal mio deposito, 15% di private equity, Mintos e Suisi, e 9% è il piano di accumulo azionario. Appuntamento quindi al prossimo video di fine marzo, ci potrebbero essere delle grandi novità per quanto riguarda il mercato immobiliare e il mercato delle criptovalute. Questo video finisce qui, spero veramente che vi sia piaciuto e vi sia stato utile, e se è così lasciate un bel like per supportare il canale e se siete nuovi sul canale, iscrivetevi, attivate la campana di notifica per non perdervi i miei prossimi video. Noi ci vediamo al prossimo video. Grazie mille per aver guardato.